Ciao a tutti, oggi prepareremo le focaccine formaggio e rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, farina di semola di grano duro, acqua, rosmarino, pecorino grattugiato, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 00, la semola e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno due ore. Abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Allardiamolo con le mani, mettiamo il pecorino ed il rosmarino. e chiudiamo incorporando per bene gli ingredienti. Dopo aver incorporato per bene gli ingredienti, adesso infariniamo nuovamente il piano di lavoro. e stendere con il mattarello. Con l'aiuto di un coppa vasta formiamo le nostre focaccine. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. Le focaccine sono cotte, serviamole. Focaccine, formaggio e rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!